Fermo restando, questa brevessa l'avevo fatta l'altra volta, la voglio fare anche adesso, insomma quando viene chiesta un sindaco di fare una valutazione sulla provincia o ex provincia o area metropolitana è una valutazione viziata perché come dirà un sindaco puoi chiedere la tua città non di quello che non amministra, però poi la comincio a pensare sempre di più come Enri De Luca ancora una volta, che forse è il caso di fare una domandina per escludere Napoli dalle statistiche per come vengono fatte perché non mi convincono, non mi convincono perché io vedo con i miei occhi, ascolto con le mie orecchie, cammino con le mie gambe la città e vedo una città in grandissimo cambiamento, guardate da ultimo per rimanere sull'attualità ieri sera sono stato due ore a via nazionale, una strada mai interessata da pedonalizzazioni, da coinvolgimento di commercianti, di cittadini, è stata un'esperienza commovente, come l'altro giorno a Rione Sanità o piuttosto alla Notte d'Arte, c'è gente entusiasta della città che partecipa alla vita cittadina, turisti innamorati di Napoli, solidarietà, accoglienza, giovani che partecipano alla vita economica e sociale, attività artistico culturale, talenti che si sprigionano, voglia di affrontare meglio anche le tante difficoltà e i tanti bisogni che sicuramente sono presenti nelle statistiche, ma le statistiche continuano ad essere dominate da parametri che non ci trovano d'accordo, che sono quelli del consumismo, sono quelli del denaro, sono quelli della proprietà privata, certo sono anche quelli dei servizi che sicuramente a Napoli per le ragioni note, carenza di risorse economiche, discriminazioni nazionali, debiti accumulati funzionano sicuramente magari non così bene come a Torino o come in altre città, però poi confrontandomi con i cittadini che vengono da altre parti d'Italia, confrontandomi con gli amministratori delle altre città, confrontandomi con i sindaci d'Europa come ho fatto l'altro giorno dal Papa, vi assicuro che non sia proprio da parte loro, non da parte mia, la percezione che Napoli sia l'ultima tra gli ultimi.